Beatrice Luzi Stufa di Grecia Colmenares ha il grande fratello, è stupida. Grecia Colmenares ha criticato gli atteggiamenti tenuti dalla concorrente. Stasera Alfonso Signorini, dopo aver elencato al pubblico a casa tutti gli argomenti che affronterà in puntata, ha chiamato in Superled le due acerrime rivelai nella casa più spiata dagli italiani. Eravate entrate molto amiche e avete subito solidarizzato. Qualcosa poi è cambiato, anzi se devo dirla tutta tra voi volano stracci. Finita questa premessa il conduttore del grande fratello ha mandato in onda una clip per fare il punto della situazione. Una volta terminato l'RWM ha quindi preso immediatamente la parola Beatrice Luzi, la quale con il sorriso sulla bocca non ha certo nascosto di non avere niente da aggiungere, bene ci siamo già dette tutto e possiamo pure tornare di là. A quel punto ho preso la parola Grecia, che non ha nascosto di non fidarsi dello sguardo della Luzi, quando mi guarda lo fa in maniera poco carina.Il problema è il carattere di Beatrice.Crede che uno deve fare quello che vuole lei. Quest'ultima nonna poi fatto mistero di aver notato che l'attrice terrebbe dei comportamenti diversi nei suoi confronti rispetto agli altri inquilini. Beatrice Luzi ha confessato di non sopportare nella maniera più assoluta l'inquilina. A quel punto ho preso la parola alla concorrente del grande fratello, asserendo senza indugio alcuno di comportarsi nei suoi confronti in maniera diversa rispetto agli altri solo perché non riesce a sopportarla. E' contraddittoria punto 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 io con lei onestamente sono sempre uguale punto 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 non la reggo più e da quando l'ho detto non ho mai cambiato atteggiamento punto 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 e apostrofo ovvio che sono diversa con lei rispetto agli altri. I toni tra le due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono quindi subito surriscaldati. Difatti le due non si sono certo risparmiate dicendosene di santa ragione. Alla fine del confronto la Luzi, la quale giorni fa ha avuto un confronto con Massimiliano Varrese, si è anche lasciata sfuggire di pensare che Grecia sia una sciocca, e stupida. Grande fratello, la concorrente non si è offesa per l'insulto ricevuto. Grecia Colmenares ha quindi subito richiamato l'attenzione di Alfonso Signorini facendo presente di essere stata appena definita stupida da Beatrice Luzi. Hai sentito quello che ha detto? Ha detto che sono stupida. Una volta che le due concorrenti sono rientrate nella casa di Cinecittà Signorini ha quindi chiesto alla Colmenares conferma che la Luzi le avrebbe dato della stupida. E quest'ultima ha assolutamente confermato facendosi però una bella risata, asserendo di non volersela prendere perché non si sente certo tale. Sì, hai sentito? Io non sono stupida ed è per questo che non ci faccio caso. E con queste parole è terminato definitivamente il cuore.